Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video e prima però di iniziare volevo fare una parentesi di scuse perché magari negli altri video non sono stata molto efficace nel parlare perché ho un problema nel senso quando registro ho paura di sbagliare il video, cioè di farlo venire male e il video me ne va male perché ho paura e quindi mi scuso, spero di migliorare questo aspetto e niente, inizio il video perché devo finire pure di mangiare e quindi faccio veloce allora, oggi 4 prodotti per prevenire l'acne allora, il primo prodotto che uso è questo gel di fergente per viso ed è semplicemente fantastico, è fresco, delicato, ha un buon odore e mi sta facendo santissimo e lo utilizzo ogni volta che mi lavo il viso praticamente poi, secondo prodotto è questo tonic istantaneo e oltre ad essere istantaneo appunto lo utilizzo, scusate per le voci lo utilizzo sempre però lo utilizzo meno del sapone poi utilizzo anche questo tea tree oil mi piace tantissimo però lo utilizzo solo quando ho le bolle rosse e quelle che non si fa sempre proprio vedere con le giganti quindi non lo utilizzo sempre ultima cosa che mi sta piacendo tantissimissimissimissimo è questa crema che è davvero buona idrata tantissimo ed è, sembra liquida però è anche granulata e inoltre ho anche una maschera però non c'entra niente con questo video dei trattamenti quindi non l'ho fatta neanche vedere più che altro perché non la trovo neanche più quindi il video è finito spero che vi sia piaciuto mando un grosso bacio e ciao, alla prossima grazie